I lavori di pavimentazione di Corso San Giorgio vanno speditamente, adesso si è cominciato a pavimentare la parte centrale, quindi Assessore siamo a buon punto. Non vogliamo, siamo qui, concederemo solamente qualche giorno di ferragosto di riposo e poi chiaramente si riparte con questa prospettiva, appunto questa positività che vediamo oggi, che la parte centrale vanno molto più veloci con questa macchina per posizionare il pavimento, quindi siamo fiduciosi di avere un cronoprogramma molto molto diverso. In poche ore sono riusciti a pavimentare un ampio pezzo di corso, quindi questo ci fa pensare, salvo imprevisti che ci si augura non ci siano, che effettivamente in breve tempo si potrà completare l'intero corso? Sì, infatti sono, come devo dire, ben impressionato da questo inizio, in poche ore, potete vedere da subito che c'è un'netta differenza, nei prossimi giorni si farà anche stuccare tutto, quindi lasceremo questo primo tratto di corso, diciamo finito, fra virgolette, poi si interverrà per le luci, ma sono piccoli lavori che non creeranno più problemi ai negozianti. Quindi possiamo essere un po' più ottimisti adesso? Adesso sì, un po' di più.